Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ETA. Oggi siamo su Odd Realm, un gioco che è uscito in realtà nel 2019 e costa 12,49€. Prezzo che vi dico subito è un affare se siete appassionati di questo tipo di giochi. Quindi potrei definirlo un erede di Dwarf Fortress, di Gnomoria e di tutto quello che volete. Ha un'ottima profondità ma anche dei difetti e ve lo voglio far vedere. All'inizio noi possiamo dare un nome alla Reame, Indie Realm, e decidere la dimensione del mondo in base, altezza e profondità, così come anche l'Overworld. In versione definitiva avrà 5 razze, quindi gli Ardyn, i Tomek e i Gwydir, ma al momento possiamo scegliere tra umani e gli antichi. Noi scegliamo gli umani e ci complichiamo la vita. La cosa interessante è ora che ogni volta ci genera un seed diverso, un mondo diverso, e in pratica possiamo andare a scegliere la location del mondo che preferiamo. e vi garantisco che il mondo è totalmente diverso dalla partita precedente. Selezionando una casellina voi potete vedere com'è al suo interno. Allora, la cosa che voglio dirvi subito, 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 è che questo non è un video che vi insegnano a giocare, ma lo esaminiamo insieme, questo gioco, e poi sarete voi appunto a decidere se portarlo avanti o meno, o comunque il mio scopo è quello di invogliarvi magari ad acquistarlo, o a provarlo, o a farvelo scoprire. Quindi vi farò vedere non come si gioca, ma che cosa ha da offrire. In questo caso vedete che ha un fiume, quindi qua possiamo farlo lungo un fiume, non mi dispiacerebbe, siamo nella taiga, e vedete che qua hanno avvistato polli. In altre cose, vitrax, ratti, e così via. E vedete che qua nella foresta ci sono ad esempio i nightwings, e io prendo questo. No, non questo, mi piace questo, questo territorio qui. Anche se in realtà a me piacerebbe molto una zona montuosa. Vedete le montagne, hanno anche delle montagne. Dai, prendo la regione montagnosa. Questa, non questa, questa, vediamo se è più bella questa, no. Questa qui forse, vediamo una... Questa è una grande montagna che potrebbe diventare molto interessante. Prendo questa. Chicken, rats e pecore. Ok, cominciamo. Ora si può scegliere il livello di difficoltà. Noi scegliamo Pioneers e la colonia di Indy. Ok, ci fa vedere quanto abbiamo. Abbiamo i tomi della guerra, i tomi dell'agricoltura, i tomi della cucina, dell'industria, e poi varie risorse che vanno da Renna, che non so cosa si chiama, una moneta. Water, acqua purificata, fibre di piante, i log di legno, il carbone, la farina, liquore di farina, di grano, insomma, il pane, la farina del pane, il pane di farina, l'uva spina, le patate, le carote, i broccoli, i meloni, i cavoli, le carote, il grano, i semi di grano e i semi. No, il grano grezzo. Partiamo. Allora, il gioco è tremendamente profondo e potrebbe spaventare tanti. Io adesso il tutorial credo che me lo faccia saltare, almeno per le parti che ho visto. Il gioco è pausato, perché dobbiamo scegliere il luogo da cui partire. La cosa fuorviante è che qua, ma anche qua in fondo, quando seleziono, vedete, 1z, la profondità, noi possiamo con il mouse andare a vedere, vedete, fino in profondità, alla profondità minima, e salire. Vedete che qui ci viene indicato dove è il terreno. Qui è la superficie, quindi il punto minimo di superficie. Avevano dei laghi sottotterranei? No, sembra... Cioè, la difficoltà per gli amanti di gnomoria come me lo prezzo, diciamo questo. Per un giocatore più giovane, più moderno, magari potrebbe fuorviare un po'. Perché? Perché come gnomoria dobbiamo... È completamente in 2D, quindi non si vede la profondità. La profondità la vediamo solo muovendo questo indicatore e andando giù. Quindi scopriamo che questa location è praticamente... A parte che qua c'è una grotta che comunica con il lago. Ma in realtà qua non la vediamo. Vedete? Questa grotta qui non c'è, c'è un lago sottotterraneo, ma ci si arriva solo da... praticamente da qui. Qui dentro va dentro. Vedete? Qui va dentro e qui c'è un lago sottotterraneo. Andando in su invece si arriva fino alle nuvole. Ci sarà anche un mondo sottotterraneo, da quello che ho capito. Ma vabbè, noi selezioniamo un punto dove partire. Quindi un punto dove partire. Io partirei, vedete qua la montagna. La montagna è altissima. Noi possiamo provare a partire da qui e sponiamo lì. Ora, praticamente, quello che io vi farò vedere sono i vari menu e le varie cose che si possono fare. Perché, ovviamente, poi lo si giocherà, magari, se vi interesserà, insomma. Il saga overlay è molto interessante perché ci permette di spendere quelli che vi ho detto prima, i punti, i libri, i libri di industria, i libri di cooking, i libri di agriculture, di arcana, di warfare, e così via. Ogni volta che un nostro villico farà una determinata azione guadagnerà dei punti fino al punto di scrivere lui stesso un manuale e quindi potremmo spendere, in questo caso, vedete, io spendo un punto di industria e acquisisco 39 blueprint. Ecco, inizio a dirvi subito il tremendo grande difetto, vedete qua tutto quello che abbiamo sbloccato, il tremendo grande difetto di questo gioco. Io amo i pixelosi, qua potete zoomare all'interno di un singolo senza usare la rotella che vi porta su un livello diverso, ma è veramente troppo pixeloso. Cioè, è come giocare ad War Vortex, War Fortress, cioè, praticamente, per capire che cos'è questo, questo sembra una cassa ed è infatti una cassa, però tante altre volte non capite questo è un stone boulder, questo è, cos'è, una vena di stagno e così via. Ma iniziamo a vedere in che cosa consiste. Con spazio avviamo ogni singolo villico, cliccandoci sopra abbiamo la sua scheda dove vediamo se è amichevole, cosa sta facendo, la sua posizione nel mondo, la vita, la fame, la sete, l'energia, l'ossigeno, perché se andiamo in zone dove non c'è tanto ossigeno soffriranno anche di quello, la temperatura corporea, quindi capire se sono malati o meno e la temperatura ambiente quanto gli è congeniale. Qua possiamo dargli degli ordini veloci, ovviamente cliccando con il destro li possiamo far spostare old position, fargli tenere la posizione in un punto, attaccare, seguire e entity info. L'entity info è molto interessante perché ci permette di vedere se è maschio, femmina, se è amichevole, la sua dimensione corporea. Loro andranno poi a fare famiglia, cioè se gli daremo una casa, dei letti, una stanza dove stare, loro inizieranno i legami, inizieranno a riprodursi e quindi la nostra colonia potrà andare avanti. Qua abbiamo di tutto, di più, abbiamo le esche, le percentuali di esche che hanno, tutte le cose. Possiamo vedere tutti i nostri video cliccando qua e possiamo andare a vedere cosa stanno trasportando, le loro abilità nelle varie attività, quindi surviving, questo è bravo, e quindi harvesting, è bravo a raccogliere, è la sua professione ufficiale, anche se qui a 14 in metodologia, però lui è bravo a piantare, è bravo a questo miscellaneus che fa tutto quello non dei precedenti, portare, magic fighting, potrebbe essere un mago, insomma, e questo è uno dei, delle peculiarità del gioco. Qua abbiamo, vabbè, la possibilità di editare le stanze quando le abbiamo create, ma non le abbiamo ancora fatte, ve lo farò vedere dopo, la production overlay, quindi tutte le catene di produzione che abbiamo creato, il settler overlay, quindi la professione che hanno ognuno di loro, carpintiere, possiamo cambiargli la professione da qui, questa è la loro principale, ovviamente se ne selezioniamo un'altra livelleranno molto, molto lentamente e non produrranno a quanto capito almeno all'inizio, credo, i libri. Ecco, abbiamo l'uniform overlay, quindi possiamo andare a vedere la priorità dei vari, dei vari lavori e in base al lavoro che fa, dal chemista, la cere, il fabbro, impostare un vestiario particolare. Questo è l'inventory overlay, quindi tutto quello che possediamo al momento, mentre qua sotto andiamo nel menu più importante, il job menu, quindi noi possiamo dare un ordine ai nostri villici, qua siamo a livello del terreno perché vedete che salendo di uno vedete non c'è nessuno, ci sono tutti e qua inizia ad esserci già una montagnetta, quindi noi possiamo dirgli con il mining di andare a scavare all'interno qui e creare una grande stanza e il nostro carpintiere si metterà già al lavoro, possiamo dirgli sperate che la tolgo a dirgli di andare a tagliare gli alberi che abbiamo intorno, quindi prendo questo e gli dico taglia l'albero, taglia l'albero, e appertate che devo trovare dove è esattamente il vedete non me lo dava prima perché devo puntare proprio il tronco, cioè è una cosa su cui farete l'occhio ma che ovviamente può far fuggire i giocatori più diciamo delicati, così li definisco, l'altezza è di 40, no, qua non è una terza minima, 37, quindi vediamo se abbiamo subito la possibilità di raccogliere l'acqua che nella precedente mappa non ce l'avevo fatta, vediamo un po', ah vedete le professioni sono harvest ground cover, quindi possiamo raccogliere il terreno, possiamo raccogliere i crop che ci vengono evidenziati, quindi i campi, raccogliamo semi eventualmente frutti, qua cattura però richiede la skill di taming quindi di addomesticare, liberare, pescare, pulire, rimuovere, collect water, vedete se abbiamo la possibilità ma non è una location valida perché fosse qui, qua devo riuscire proprio a capire come fare e trovare l'altezza giusta dell'acqua perché qua sotto sembra esserci dell'acqua o in cima no, l'acqua dovrebbe essere qui credo vediamo un po' l'acqua è qua ma non non riusciamo a raccoglierla e questo vabbè mi stimolerebbe a approfondire un pochino la mia partita vedete qua c'è dell'acqua ma loro non vanno giù perché non vanno giù perché qua vedete sta andando va proprio a vediamo 37 e va proprio giù a strapiombo qui non c'è modo cioè non non c'è un percorso che va giù il problema è quello quindi se io vado a raccogliere collect water non mi va giù non ce la facciamo dovremmo fare un percorso subito per farli andare a prendere acqua comunque quello che lui adesso sta facendo vabbè è lo scavare l'unico e gli altri invece si stanno dividendo in base alle loro professioni a raccogliere le varie cose qua abbiamo il build menu il build menu ci consente di creare gli oggetti in questo caso vedete non sono proprio distinguibilissimi tutti ad esempio questo è un wood bed questo è un fiber quindi praticamente mi servirebbero per fare dei let io clicco e me lo piazza quindi in questo caso vedete io ho messo un letto qua all'entrata giusto per farvelo vedere insomma l'avrei voluto mettere dentro di là vabbè il letto l'abbiamo praticamente già creato possiamo rimuoverlo possiamo copiare le impostazioni e metterlo da un'altra parte insomma e così via e abbiamo tutti gli altri oggetti dalle pareti adesso come faccio sempre in Inward costruisco dentro una roccia ma in realtà si potrebbe costruire un edificio qui e fare tutto il resto questo è il build menu quindi sia oggetti è tutto divisibile ma sopra vedete pixeloso un difetto non si capisce che cosa andate a fare dovete passarci sopra col mouse ovvio che poi una volta che ci giocate da 100 ore saprete già tutto però ecco questo questo è l'agriculture menu possiamo decidere di piazzare dei campi in base a quello che possiamo in base ai semi che abbiamo quindi in questo caso ho messo carote meloni mettiamo il grano lo mettiamo qui così abbiamo altro no e così abbiamo messo anche questo questo è il room menu che ve lo faccio vedere tra un attimo il prop rotation è per ruotare credo gli oggetti questo per chiudere le porte e qua vedere le priorità dei lavori quindi andare a modificare le priorità come abbiamo già visto anche su magari oxygen not included qua sotto invece sono essenzialmente tutti gli overlay i job che sono in corso attualmente room overlay che non abbiamo le priorità dei lavori le priorità dei dei blueprint la temperatura vertical patching ci fa vedere se è più in alto o più in basso qua invece freccia verso il basso qua freccia verso l'alto quindi ci fa capire che si sale lì e non è proprio comodissimo ma per gli amanti di chi ha amato ogni umore è sempre aspettato qualcosa di simile questo potrebbe essere una mano dal cielo highlight entities le entities sono i nostri villici li chiama così l'entità vabbè poi in sintesi vabbè faremo faremo anche altro vediamo intanto se riesco a costruire vediamo un po' vedete che ci sono un sacco di un sacco di cose jobs menu no ecco vedete le room menu le room menu noi possiamo selezionare una stockpile e piazzarla magari qui qua mettiamo una stockpile quindi lì diventerà no mi ha laggato e mi ha fatto tutta la stockpile qui ma va bene la lasciamo così come possiamo selezionare la home ma in questo caso diventa una casa possiamo scegliere la woodmill quindi ci dà anche gli oggetti che ci vengono richiesti quindi un fire pit una fornace una workbench mentre invece per la casa serve il letto la farm la mettiamo qui e gli dico che questa è una farm la cucina ci serve una stufa un fornello un calderone un fire pit e una workbench al momento sono questi però calcolate che qui di saga overlay di cose da sbloccare ce ne sono tante il gioco è 3 anni che è in early access non so quando uscirà mi sembra molto 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 profondo però è ovvio che non è immediatissimo primo perché non si capisce qua vabbè c'è un lo vedete qua dove sto puntando adesso che oggetto c'è a terra della della terra qua vedete che ci sono dei wood log qui c'è un wood log ah qua il singolo e qua il multiple ok questo invece è un un seme di una quercia il personaggio se voi ne prendete uno che non sta facendo niente potete cliccare e andare a farlo andare da qualche parte qua abbiamo una gallina chicken neutral possiamo decidere di tamarla domesticarla e tenerla per noi intanto lui sta continuamente scavando possiamo andare e non ho ancora imparato dove sono tutti gli overlay ecco vedete che tutti hanno comunque la vita sono tutti ben alimentati hanno tutte l'acqua l'energia ne hanno ancora quindi in pratica stiamo andando abbastanza bene per quanto loro non sanno ancora che moriranno probabilmente presto per la mancanza di acqua comunque in pratica inizio a piazzare i letti loro iniziano già a costruirli quindi questo diventerà questa stanza diventerà la casa quindi posso estenderla quello che cambia poi negli overlay quando andiamo a vedere questa la production overlay e ci viene dato i campi che sono al lavoro adesso possiamo c'è un tutorial che spiega bene tutto possiamo decidere chi far lavorare la soglia minima la soglia massima per farli lavorare in pratica si può testare di tutto adesso vi faccio vedere una cosa che potrebbe farvi impazzire o farvi scappare questa la diets la diets overlay è la dieta e non pensate che si mangino gatti qui è inteso che voi potete andare su ogni singola entità quindi gli umani i cani le mucche i polli i gatti le pecore e vedere qual è la dieta e modificarla quindi in pratica le pecore mangeranno ad alta priorità l'acqua a media priorità tutte queste cose e invece gli sarà vietato tutto quest'altra cosa tutto questo poi farà sì che chi si occupa di fare il pastore seguirà quelle regole alcune volte vorrà riabilitare o disabilitare certi item nella dieta delle entità la dieta è qui per creare ok il tutorial purtroppo avendo iniziato una partita riparte da dove l'avevo lasciato comunque dire che questa stanza è praticamente pronta noi possiamo andare avanti a scavare e quindi magari fare un corridoio e portare avanti la nostra magari fare non so una o da qui 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 e qua faccio una piccola cucina loro intanto stanno andando avanti e sbloccheranno sempre più cose adesso io mi servono due libri per il tomo dell'industria e questo sbloccherà queste cose il masonry shop e tutti i muri di pietra la la stone anvil e così via poi io avevo anche messo delle cose dei lavori di rimozione del del ground la copertura del terreno praticamente hanno coperto l'erba ok e niente adesso sarà sarà bene da capire perché se io gli dico di scavare qua non posso scavare dovrei farli scavare vediamo se funziona come gnomoria io sono 37 scendo di uno dico di scavare qua e loro scaveranno una buca interessante cioè praticamente io posso andare poi a esco da questo allora come crescono i tuoi settler quando il tuo insiedimento sale manualmente equipare manualmente le cose possono diventare cioè dare equipaggiamento in un modo manuale è tedioso l'uniform windows va bene praticamente voi settate dovete prima far pace col vostro cervello e poi capire bene quali sono le peculiarità dato che non sono distinguibili i tizi quindi è un gran casino dovete capire i nomi capire chi è cosa fa e settargli subito il loro equipaggiamento io volevo vedere solo job priority vedete che quel lavoro lì non me lo danno perché vorrei aumentarlo la priorità di quel lavoro lì ma non me lo fa va bene dovrei capire come fare comunque abbiamo l'overworld map e noi siamo qui e il mondo è enorme devo ancora capire come funziona il resto possiamo migrare possiamo fare un altro insediamento insomma è fighissimo come concetto è molto bello ed è secondo me il vero erede di non moria puoi selezionare bloccare usando il tasso sinistro tenendo il tab hai bisogno di ok si 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 va bene va bene va bene va bene il gioco è fighissimo costa poco perché 12 euro è senz'altro un bel prezzo sarà senz'altro da approfondire guardate che grande montagna che abbiamo qua e ovviamente se noi andiamo salendo verso l'alto scopriamo quanto è alta forse la cima è qui la cima è qui siamo partiti da 47 quindi 47 è un bel po' una quindicina più o meno di di dislivello infatti le nuvole arrivano quasi qua in alto i nostri vidici sono qua sotto che stanno coltivando scavando quindi torniamo a livello 37 e va bene dovremmo pensare di fare anche una miniera per andare sotto a scavare e così come un percorso per raggiungere la famigerata acqua però voglio vedere se da lontano con la mappa così lontana mi dà qualche possibilità di collect water qua no invalid no è tutta non è non c'è niente a livello quindi bisogna proprio dovevamo piazzarci qua mannaggia comunque va bene so che riceverà tantissime critiche questo gioco dai giocatori quelli che non amano la pixel grafica che non amano le cose complesse ma questo è molto bello devo dire che è molto molto bello andrà sicuramente approfondito e potrebbe tenermi impegnato parecchie ore perché non stiamo giocando facile ma tanto facile non mi sembra dato che non abbiamo l'acqua è quello che secondo me avrei voluto trovare in dwarf fortress ma con una grafica un pochino più bella ma lì ci vuol poco perché sono dei caratteri sicuramente non aggiungerà la profondità di dwarf fortress che è molto più ricco e dettagliato di dati però quello è un gioco veramente hardcore in sviluppo da 20 anni quindi non ma e niente ragazzi io adesso seleziono l'ultimo settler voglio vedere friendly vediamo se ha famiglia è un miner lui questi sono i consigli vediamo se ho altri dati si sarà da capire anche la famiglia la famiglia che ha qua sotto potete scrivere il nome del villico e ve lo trova scrivo bindi e me lo tagga abbiamo un libro abbiamo ottenuto un libro o ce l'avevamo già di industria questo l'ho riconosciuto subito quindi inizio a farci l'occhio abbiamo due libri adesso quindi possiamo ricercare questo boom e possiamo iniziare subito con il masonry shop quindi andando qui potremmo andare a trovare nelle props vedete la stone anvil fieber no bookcase stone fence la stone furnace e la fornace mi sembra che servisse la metto lì la fornace serviva per fare una cucina credo vediamo kitchen sì e abbiamo sbloccato un'altra stanza che è il masonry shop no la fornace non serve per la cucina quindi posso fare un masonry shop perché serve la fornace l'anvil e tutto e qua inizieremo magari a produrre gli utensili da dare ad altri che magari arriveranno o per migliorare le prestazioni di chi sta magari scavando quindi andare a cambiargli il piccone anche se in realtà io nell'equipaggiamento di Stotizio non vedo sta scavando a mani nude non lo so ragazzi questo era odd realm letteralmente strano regno credo perché regno dispari non credo fatemi sapere qua l'hanno già costruito molto bravi fatemi sapere cosa ne pensate noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti